Ah, è stato un viaggio veramente molto stressante e lunghissimo, non finiva mai questo viaggio, finalmente siamo arrivati Bellina questa cittadina Mmm, le case Ok, io vado a visitare un po' a chiccata Se no da quella là, che già mi intriga, vedo? Ok, sì, ci sto per il cartello Ok, sì, andiamo Allora Quasi entra Giusto subito, vediamo un po' la televisione, bella, funziona da te? Sì, lo potrei come se volo arrivano comodo, cammino, ok Quindi cogliamo un po' il bagno Uh, grande Ok Ah, poi funziona? Sì, posso mettere qualche cosa, bello Ecco, prendiamola La doccia Cominciamo a stare fuori Quindi bella questa piscina Un esbraio, bello questo da zebo E là ci sta, ah, ok Mi piace Già Qua ci sta una mega tavola, mamma mia Poi ci sta nella sedia, vediamo questo cavolo, sono comodissime Ok Vediamo un po' se è funzionante questa Ok Il frigo Ok Un esbraio, stiamo in casa, ma già non lo lascia Oh I tronde Il furono Vediamo proprio se cuoce il furono, voglio vedere Allora, mettiamo qua Vediamo Un esbraio Perfetto, buonissimo Ok, questa è la tavola Poi la liberia Ok, saliamo sopra Ok Allora Andiamo qua dentro Ci sta messa Sarete Uh Ok Il pc Il letto La televisione Il bagno Oh Ok La conozione Ok, io vado a raga Andiamo a progare al sindaco Ok Abbiamo pagato al sindaco Questa qua è la nostra nuova casa Dai, è molto carina No Secondo l'ho messa io Allora Andiamo un attimo Andiamo a dormire Volevo andare Volevo andare un po' Al concessionario Di auto Ok Stiamo un po' Alla sui cini Oh C'è qualcuno Ehi Ciao Sì, sono io Ehi Come ti permetti Ciao Ciao Sì, certo A qua Madre Ah Ehi Ehi Ah Hai qualcosa Da mangiare? No Ok Quagate vuoi merda Ehi Come si permette Beh Pure a casa sua Vanno questi cartoni No A me fanno i minimi Via direi Allora Andiamo a vedere Vogliamo andare al concessionario? Sì Io la voglio là Ah Vuole comprare un'auto? Sì Ok Io vado a dormire Ciao Ci vediamo dopo la mattina Ok Ciao Che scelte si fanno Che cazzo C'è il peggio Ok Prima notte Ci vediamo domani Eccoci qua Ok Ok Facciamo una medda cacata Mamma mia Ok Vediamo Meglio di non fare figure di merda Ok Da mostri cose che non mi faccio proprio Ok Possiamo andare giù Andiamo a fare un po' colazione Dovevo la casa Ok Ciao Oh si risponde Ciao 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 Volevi venire a comprare la macchina Ok Allora Abbiamo macchine Di sottotitibili Abbiamo macchine All'antica Sì E macchine Belle Alla Ferrari Vabbè Alla Lamborghini Come si chiama lei? Alessandro Ma io mi chiamo Mattia Ma ci stai a Lamborghini? Sì Sì Fatti i cazzo tuoi Allora Fammi da un po' le auto brutte Le auto brutte stanno attimo di sotto Le auto belle stanno al piano di sopra Questo mi piace Ok questo costa 100 euro Oh ma facciolo cazzo C'è nello costo 5 Sì Sì però Dai Va molto veloce Poi Sopra abbiamo le macchine Le Lamborghini Al 300 euro Dipende dal colore La rossa che è la più famosa costa 300 euro Le blu costano 230 euro E la grigia costa 200 euro Compro la rossa quanto costa? 300 euro Non avevate detto 200 euro Non avevate detto 200 eh Dipende dal colore Ma che colore? Ma che cazzecca? Dipende dalla velocità Signore Alessandro E dai Siamo amici Fammi lo sconto Tieni 200 e basta Tutto l'incognito Sì arrivederci comunque Grazie Ma io non lo so La gente di oggi Cioè Vabbè Almeno 200 euro Ok Grazie Cazzo Ah da quanto siamo fighi Con la Lamborghini Nuova marca Lamborghini ragazzi Ok Ok Perché diamo subito Ah il garage non l'ho visto Signora Alessandro Posso venire a casa sua? Sì un attimo Ok Signor Lamborghini Un attimo Mi chiamo Mattia Ah Mattia Avevo capito Lamborghini Sono il signore che vende le auto ma non mi chiamo signor Lamborghini Oh bellino Ma chi ti ha detto di entrare va via vada via Ma io gli ho fatto pure uno sconto di 100 euro e lei mi diceva così Non c'è una cosa da mangiare Sì Grazie Ok un attimo solo che poi ci sta il pollo si accomodi e mangia Ah e poi a casa sua fanno i film ma che cazzo di film è questo Cioè No Ma bene Ma è per mio figlio futuro capito Bello Ah fammi vedere qualcosa di bello Vieni qua vieni qua vieni qua qua ci sta il pollo si accomodi Grazie grazie Ma mi chiamo Ma mi chiamo di mangiare Grazie cazzo La sedia è un po' andata sul tavolo signore Va buona Paga lei Ma che cazzo Ma si mette in vergogna Ho ancora fame Pappa voglio una pappa Ok ecco qua Un attimo da cucinare Mi aspetti No vuoi rubare Se ne vado Ho fame Ma guarda adesso l'incoglione Sto preparando Sto preparando Guarda qua stiamo mettendo qualcosa a cuocere Sì Ok Ok E' pronto Vengo Stavo guardando la tv Un pesce Ma dobbiamo infatti sto pesce Grazie molto Grazie molto Che Facciamoci la camminata Vieni dai Ok ok Quella mia da un borgotti però Va bene Andiamo signora Ma da qua va veloce va Ma da qua va veloce va Ah bene bene Comunque il pesce La scaduta Scendo dalla mia auto Non è degno Scenda Il pesce scaluto Dove lo dobbiamo mangiare il pesce Dove io un culo Ma ti ha testo di incoglionito Io ce lo prendo in culo a tua sorella Non ce l'ho E' bello Ok adesso dobbiamo trovare il lavoro Che cazzo faccio Facciamo il lavoro Il mio sito come lei Ah ok Eccoci qua La casa è carina Più Vai Libri 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 Non l'avevo proprio vista Sto sfondando tutto Deve che cazzo Ah bene Aspetta possiamo fare il giusto Così Mamma mia che fatica Ok Scriviamo Ok La denuncio Io la denuncio Aiuto 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 La denuncio Dammi tu 200 euro La denuncio La piccola Ma la macchina sta là Io la denuncio E ho la chiamata Ma la macchina sta là Ma è uno scherzo Io diremo buoni amici Ma si mette vergogna E dammi c'è Andiamo giù 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 Andiamo Insieme Che lo dice Che cazzo Che cazzo sto facendo I controlli C'è un salone Si mette vergogna Il divano Il divano Il mio divano Il mio divano Il mio divano Il mio divano Allora Io gli ho ridato Allora Io gli ho ridato A hamburgotte E lei mi gli dà il divano Ok Lo comprerò Nella prossima settimana Perché ora non tengo i soldi No Ma non c'è l'Ikea Ma non c'è l'Ikea La compro Nella prossima settimana Vedi che stanno Possendo la giù Ma mi ha Mi ha rotto il divano Ma No 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 Beh signore Che dire Alla prossima Allora Vai Tu puoi la hamburgotte Ti piccono eh Ti piccono Ti piccono Aiuto Scappa Con la hamburgotte La mia hamburgotte Non l'indegna A un signore Come lei Rubala la hamburgotte Ma Vai 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 Ma che cazzo sta facendo Ma Ma Cosa sta facendo Rincogliorito Cosa ho fatto Ah Non la sto sento Ok basta Siamo a lavari Sì Però mi avrà mirato Tutti gli sedi della mornezza Ma no Non ho toccato niente Dove stanno Sì No No Non ho toccato niente Sì Sì Ti sai video E dopo Ma Mangano tre cose Della mornezza Venga qua Venga qua Venga qua Che cazzo Vabbè signore Siamo alla parola Dai basta Basta Venga a mangiare Venga a mangiare Va bene Va bene Va bene Va bene Ma perché non si può mettere la sua No Perché No Che bello Signore Diamo carità Adesso La prossima La prossima Arriverà lì Ti comprerei Il divano Ok Va bene Ok Alla prossima Signore No vieni qua Vieni qua Vieni sopra Ok Ok No Cos'è Deguiamo Poco a FIFA Dai Vai 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 cazzo Vai Goal Vai Le pecore Le pecore Ci fanno una pippa Vediamo se qua ci stanno le cagate No Va bene Se ne può andare Ok Arrivederci signor Alessandro Vatti buttare Eh Mi robo Le scale Vabbè Arrivederci signor Alessandro Alla prossima Ok Ok E ragazzi Ne bisogna Vieni a qui Spero che vi è piaciuto Raggiungiamo I 5 like Se volete Continuo Bella raga Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima